Il Borgo Film Fest premio Frank Capra prevede per il primo step la partecipazione al bando di concorso per cortometraggi di genere fiction e documentari e cortometraggi per sceneggiature. Il bando è online su filmfreeway.com, è possibile partecipare e inviare il proprio lavoro entro il 10 maggio. Possono partecipare tutti i maggiorini che abbiano creato un cortometraggio a partire dal 1 gennaio 2022 e i cortometraggi possono anche essere stati presentati ad altri concorsi e possono aver vinto dei premi. La cosa a cui noi diamo una premialità è il dare valore ad una location che sia un borgo storico proprio per il fatto che il festival si chiama Borgo Film Fest, ovvero in seno al progetto Bisacquino Borgo del Cinema e delle Arti finanziato dal PNRR Linea B per la rigenerazione urbana e sociale dei borghi storici, il festival si vuole posizionare sul mercato nazionale e internazionale come il festival del turismo cinematografico nei borghi e quindi dare valore e promuovere in un'ottica di turismo cinematografico, quindi di cine e turismo, tutti i borghi storici d'Italia e esteri. Infatti il bando è parte a cortometraggi nazionali e internazionali. Il festival avrà un luogo dal 20 al 23 giugno 2024 a Bisacquino in provincia di Palermo. Il 23 giugno sarà la serata finale con ospiti di calibro nazionale del mondo dello spettacolo e mentre durante le altre giornate ci saranno workshop intensivi di produzione, sceneggiatura e ospiti dell'ambito turistico in quanto il festival è dedicato al cinema e al turismo.